Non manca più molto all'inizio della 37esima edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, in programma a Torino, da sabato 4 a giovedì 9 giugno. Una delle più grandi manifestazioni sportive dedicate a persone con disabilità intellettiva mai realizzate in Italia e la prima sul campo dopo l'inizio della pandemia. Special Olympics, organizzazione fondata in America nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, è attiva in Italia sin dal 1983 ed è riconosciuta come associazione benemerita sia dal CONI che dalla CIP. La sua missione non è rivolta al risultato sportivo in quanto tale, ma all'integrazione delle persone con disabilità intellettiva nella società, al miglioramento del loro benessere psicofisico, alla promozione di un cambiamento culturale sulla disabilità e del valore educativo dello sport. Il successo del movimento è supportato da dati sempre in crescita, che portano il numero di atleti in tutto il mondo a superare quota 5 milioni, di cui circa 9.000 solo in Italia. I giochi vedranno la partecipazione di oltre 3.000 atleti provenienti da tutto il territorio, che si cimenteranno in 19 discipline sportive individuali e di squadra. Quest'ultime praticate in modo unificato, con la contemporanea presenza di giocatori con e senza disabilità. Gli impianti sportivi coinvolti, tra cui il Palavela, saranno molteplici e dislocati su tutto il capoluogo e in alcuni comuni della città metropolitana. Il conto alla rovescia scatterà ufficialmente venerdì 18 marzo, con la partenza della Torch Run da Udine, sede degli ultimi giochi invernali. La fiaccola di Special Olympics inizierà poi un viaggio lungo tutte le regioni d'Italia per arrivare in Piemonte lunedì 16 maggio e concludere il suo percorso a Torino domenica 5 giugno, in occasione della cerimonia d'apertura con l'accensione delle tripode. È davvero un onore, commenta il direttore dello Special Olympics Team Piemonte, Carlo Cremonte. Organizzare i giochi nazionali estivi per la prima volta a Torino si tratta di un biglietto da visita importantissimo per i giochi mondiali invernali in programma qui nel 2025. Lo staff, anche in virtù dello slittamento di un anno causato dalla pandemia, è prontissimo ad accogliere atleti, tecnici, famiglie e volontari. Grazie.